Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Archeviparla, e a parte questa bellissima clip da Charlie Intel dato che c'erano i distributori di Cold War per i perk, The Jug e Speedcola, siamo qui con un piccolo elenco di informazioni, alcune ufficiali e confermate, altre leak per lo zombie di Modern Warfare, quindi circa tutto quello che sappiamo, leakato o meno, prima del Call of Duty Next, che vi ricordo arriva questa sera, con tutto quanto il reveal del multiplayer e qualcosina anche per zombie, in più vi ricordo che da domani parte la beta, e già per dire ho ricevuto il mio codice per Playstation e sto facendo partire il preload, tocca scaricarsi letteralmente tutto quanto il code HQ, che è un pochino un peccato perché sono tanti giga, ma purtroppo adesso tutto quanto è unito in quel sistema, che ogni pezzo aggiuntivo di beta non è soltanto un'applicazione a parte, ma è un pacchetto in più per il gioco base, diciamo. Ciò non toglie, vediamo un attimo tutto quanto questo elenco. Come ho detto prima, alcune informazioni sono veritiere e confermate, altre invece sono dei leak o rumor, perché tutto quanto potrebbe cambiare con il reveal, che comunque quando vedrete questo video è a pochissime ore di distanza. Tutto questo elenco arriva da Margo Network, che l'ho appunto pubblicato stamattina, con tutte quante le informazioni aggiornate. Inizialmente per quanto riguarda il gameplay tutte queste cose già le sappiamo, quindi teoricamente c'è un limite di 60 minuti per questa modalità, con tutta quanta difficoltà che piano piano aumenta, ed essendo simile a DMZ c'è un server in cui giochiamo e appunto piano piano arriverà una tempesta etere che ci spingerà a fare estrazione, essendo questo un tipo di gameplay extraction shooter appunto simile a DMZ. Proprio riguardo c'è tantissima enfasi a riguardo per tutto quello che possiamo raccogliere e utilizzare anche nei game successivi. La mappa in sé sarà quella di MV3 ambientata in Urzikstan. Come detto prima c'è soltanto un server per tutti quanti, siamo 24 giocatori in totale, 6 squadre da 4 player e appunto tutto quanto è soltanto PvE, nessun tipo di PvP. I nemici che tornano sono sicuramente i Mimic, visto anche in quello che è stato il reveal iniziale con uno screenshot, ma anche teoricamente gli Abomini, i Cani, i Mangler, quindi i Laceranti, i Discepoli e forse anche i Panzer. Si parla anche di Mega Abomini che esistono, non sappiamo se è una versione alternativa degli Abomini normali, o sufficientemente una versione un pochino più grande e resistente. Si parla anche di un nemico nuovo come un boss, chiamato Gormgant. Sono presenti in questa modalità non soltanto gli zombie, ma anche umani controllati dall'IA, che sono appunto dei mercenari di tre tipi, molto simili appunto a come è in DMZ, e più ci avviciniamo al centro della mappa più ci sono degli zombie molto resistenti, ma anche maggiori ricompense. Ci sono anche tutti quanti i convogli corazzati e le roccaforti da poter essere lootate. Sembra sia disponibile anche delle roccaforti infestate chiamate nidi di etere, che presumo sono tutte quante piene di zombie e anche queste ricompense. Sono comunque disponibili delle serie di uccisioni, tra cui anche la torretta robot. Ci sono inoltre delle cosiddette Harvester Orbs, che sono appunto delle palline a cui poter sparare sparse per la mappa, il che mi ricorda un pochino Epidemia. Sono quindi di conseguenza disponibili i contratti, che saranno probabilmente delle piccole missioni con anche delle ricompense che siano di XP o magari delle armi o oggetti per completare altre quest. Tornerà quindi il Pack-a-Punch con tier da 1 a 3 e anche tutte quante le realtà delle armi, come già visto per dire su Cold War. Tornerà ovviamente la cassa, come detto prima il Pack-a-Punch, le casse di munizioni, le armi a muro e le buy stations come su Warzone per poter acquistare alcuni oggetti o abilità che ci interessano. Tutto quanto può essere quindi ottenuto in seguito venduto, tra cui anche la carne di zombie. È descritta questa modalità come estremamente difficile, ma sicuramente aspetterei a vedere, perché se è estremamente difficile per i giocatori standard che non hanno mai toccato zombie, è chiaro che è relativo invece a quelli che sono i veterani che giocano a questa modalità da veramente tanto tempo e sono abituati a difficoltà molto più punitive, come anche soltanto i tempi Black Ops 1 o Black Ops 2, rispetto ai recenti Black Ops 4 o Cold War, dove comunque salvarsi è estremamente possibile e certi oggetti sono molto potenti. Tornerà anche un sistema di schematica che permetterà di avere upgrade sia temporanei ma anche permanenti. Questo spero possa un attimo assomigliare ai cristalli Ethereum già visti su Cold War, quindi alcuni potenziamenti che sono permanenti per tutti quanti i giocatori e altri invece che sono soltanto i relativi al game e possono essere quindi acquistati per un piccolo bonus. Qua si parla di elementi che tornano, presumo si parli delle munizioni alternative a AT, come ripotenziamento aggiuntivo del pack a punch, quindi qualcosa di elettrico, a fuoco e che congela e qualcosa di simile al trasformato. Sembra inoltre che tutte quante le mosse finali disponibili in certi bundle siano utilizzabili anche sugli zombie, il che è interessante ma sarebbe secondo me estremamente figo averci anche sugli zombie speciali, immaginate qualche mossa finale utilizzabile su un panzer mentre letteralmente gli spacchiamo il cranio o gli spariamo in testa. Sembra che ci siano soltanto 4 mimetiche per arma, oggi sono in mente tutte quante le maestrie per oro, diamante e qualcos'altro di definitivo, speriamo che non sia un grind estremamente stupido e noioso o qualcosa comunque di sensato. Teoricamente ritornano i perk come Deadshot, Speedcola, Quick Revive, Jug e Elemental Pop, ma presumo qualcosina anche come la Stamina e simili, sono dei perk letteralmente fondamentali, ma anche dei grandi classici. Come visto in altri leak torneranno anche potenzialmente da campo, tra cui aura curativa e schermatura etere. Se parla di ritorno della Raegan, questo è praticamente confermato, ma anche la possibilità che ritornino la Rip di The Machine e la Cerberus di Mawater Totten, inoltre ovviamente confermato di recente col teaser dei cereali che donerà anche la scimmia. Per quanto riguarda la storia tutte quante queste informazioni sono quasi confermate, per cui come già visto nella cinematica vediamo Viktor Zakhaev arrivare in Nurzikstan e appunto recupera tutte quante le fiale di Ethereum da quelli che sono i capi di Requiem, ormai purtroppo morti. Fa quindi partire quello che è un'epidemia di zombie in quella zona dopo che tira una fiala e quindi a questo punto le nostre Task Force 141 e CIA fanno partire l'operazione Deadbolt assieme a Ravenov e il capitano Selma Green. Inoltre la fazione di mercenari Terminus Outcomes lavora con Zakhaev, capitanata da Jack Fletcher. Come si può immaginare, essendo simile a DMZ, anche tutta quanta la storia verrà raccontata tramite missioni, ma si accenna anche a qualche piccola kassin alla fine di ogni singolo capitolo. Possiamo sperare che siano fatte veramente come si deve e che possono comunque spiegare la storia, ovviamente in concomitanza con alcuni easter egg che oltre che di gameplay possono fare un attimo anche di storytelling. Come ho visto in un altro leak c'è l'elenco delle missioni già presenti nel gioco, tra cui Resort, Ranch, APT, Damport e Chemical, anche se continuiamo a pensare che questi nomi sembrano essere di zone piuttosto che di missioni stesse, a meno che le missioni non ci avranno proprio il nome della zona, quindi vai in quel posto e completa alcune attività. Quindi ragazzi, questo è teoricamente tutto quello che sappiamo per lo zombie di Modern Warfare in attesa del reveal ufficiale a Call of Duty Next, eseguito nel lancio del gioco che è circa un mese di distanza. La beta comunque parte letteralmente domani e di questo ne sono molto contento perché voglio vedere appunto il gameplay. Chiaro che tutto quanto dovrà sistemarsi come si deve e fa comunque strano che una beta sia un mese prima del lancio del gioco, perché una beta dovrebbe essere molto prima. Ciò non toglie che proverò sicuramente tutto quanto e sono curioso un attimo di vedere il risultato, specialmente considerando che non gioco a MV2 da veramente diverso tempo. Voglio quindi sapere ragazzi tutte quante le vostre opinioni, siete un attimo contenti di avere questo elenco di informazioni complete che per quanto non tutto quanto sia confermato sono veramente tante. Aspettiamo appunto si spera un gameplay al Call of Duty Next o quantomeno un reveal fatto veramente bene per avere più informazioni possibile e come al solito al lancio del gioco provare tutto quanto nella speranza che le prospettive sia al lancio che in seguito non siano pessime. Il video di inizio con Coda è qui, spero come sempre che vi è stato utile e vi sia piaciuto, tutte quante le informazioni sono qui sotto in descrizione, fate anche tutti quanti i miei social, Instagram, Twitch e i canali Discord. Ci vediamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Ciao.